Ed ora cari ospiti facciamo un bel brindisi alla nostra crociera. E' perché... cioè io ho fatto... permesso. Saltiamo alla manovra, nei filini allargano, tiri sull'ancora, nei bambocci a poppa, bolli gli armeggi. Fantozzi? Sì, Fantozzi, a poppa, bolli gli armeggi. Bene, filini, l'ambrotti. Sì. No, inocchio è diventato. Bambocci, sciogli la cima. Sì, è questa, no? Ah, no, è quella, no? Dunque, è questa. Ma non quella, la cima di pitta! Ah, la pitta. Dunque, la cima di pitta. E di qua, qui passa. Si sbrighi, bambocci! Ecco, questa. Va bene, poi le spiego, eh. Filini, metto a togliere i parabordi. Vado. Sentito che tromba? E questo pulsante cos'è? Questa è la velocità. Ah, interessante. E questo? Motore di destra. Motore di destra. Motore di sinistra. Motore di sinistra. Con mutatore. Con mutatore. E questo motore di sinistra. No! Che bella voce forte che ha, vero? Sì, è ultra potente. 18.000 megasuoni. Ah, vado.